Un solo punto le divide nella classifica del Girone A, il loro obiettivo è lo stesso, accedere ai playoff scudetto, loro sono Bolzano e Pressano le protagoniste del Match of the Week in diretta il prossimo primo aprile su Palamano TV. Sicuramente abbiamo disputato una partita non ai nostri livelli perché noi siamo il Bolzano e quindi tutti si aspettano grandi prestazioni e grandi vittorie, adesso arriva questa importante partita decisiva contro Pressano che è lì dietro un punto e dobbiamo fare bene per staccarli ulteriormente e puntare alla semifinale a scudetto. Ma sicuramente secondo me l'approccio alla partita con un po' più di cattiveria, un po' più di precisione, di concentrazione al tiro, soprattutto abbiamo sbagliato parecchi tiri dai 6 metri e credo che se dovessimo mettere queste componenti in campo riusciremo a fare bene anche a Bolzano. Sì, sabato è stata una partita fondamentale per noi che abbiamo vinto e adesso siamo a meno uno da loro, quindi noi avranno più pressione di noi in casa, dovranno giocare al massimo anche loro. Sarà sicuramente una bella partita e sono sicuro che loro vorranno rifarsi della sconfitta di sabato e lì c'erà più grande. Noi andiamo lì tranqui e puntando sicuramente al primo posto e con l'obiettivo minimo direi di arrivare almeno secondo. Valida per la quarta giornata della pool playoff e allora Bolzano Pressano l'appuntamento alla quale non potete mancare sabato a partire dalle 19 in diretta su Palamano TV. Calendare alla mano nel turno del fine settimana suscita curiosità però più di qualche gara. Carpi Romagna in primis con gli emiliani a caccia del riscatto dopo la sconfitta nettissima del confronto di sabato scorso. Passando invece alla pool retrocessione la gara fra Dorica e Rapid non Antola opposta sul 40 per 20 di Ancona rappresenta un vero e proprio dentro fuori per la salvezza. In Serie A femminile la capolista Salerno è di scena sul campo di Teramo galvanizzate dalla più sei in classifica su Conversano. Con Conversano le campane giungono in Abruzzo per blindare ulteriormente il primato aspettando la matematica certezza due su tutte le partite da tenere d'occhio. Inoltre Cassano Magnaco conversano alla palatacca sfida ad alta classifica in piena regola ed estenze Brescia che interseca gli interessi di accesso a playoff Scudetto e alla Coppa Italia per queste due compagini.